Grazie a tutti. E noi dobbiamo cercare di dare una continuità, di essere un punto di partenza perché se poi non dai continuità non hai fatto niente. Continuità che è quello che vi sta mancando, fate buone prestazioni, poi altre molto meno. Questo benedetto approdo ai playoff che è quello che sembra essere l'obiettivo minimo, a questo punto bisogna cercare di trovarla questa continuità? Il nostro obiettivo primario è quello di migliorarci sempre partita dopo partita e poi vediamo dove riusciamo a arrivare. A fine campionato tiriamo le somme, però l'obiettivo principale è quello di migliorarci. Inevitabilmente con te sei uno dei più esperti e il leader della difesa non possiamo non parlare anche di quelle che sono le difficoltà. Abbiamo sempre detto che le difficoltà non sono soltanto di un reparto, sono di tutta la squadra, però questa squadra prende per esempio troppi gol da calci da fermo. Allora ti chiedo come mai c'è un problema forse strutturale, c'è un problema di attenzione, che cosa sta succedendo? Ma come dice lei abbiamo preso parecchi gol su palla inattiva, sicuramente ci sarà da lavorare ancora di più se questo non è bastato fino adesso. Il perché non te lo so dire, perché è capitata annata che marchi a zona e prendi gol, marchi a uomo uguale e prendi gol. È un'annata un po' particolare diciamo, però sicuramente con il lavoro si riesce a limitare un po' questo gaffo. Ti chiedo un tuo giudizio personale sulla tua annata, che tipo di annata stai facendo secondo te? Diciamo un'annata che è partita tutta in salita, nel senso che è stato l'infortunio, dopo l'infortunio alle spalle. Perché come dicevamo prima dobbiamo trovare continuità, dare un giudizio, diciamo i giudizi sono sempre alla fine. Però per adesso penso che è un'annata che rispecchia la norma di quello che abbiamo fatto fino adesso, nel senso che la squadra ha fatto più o meno quello che era nelle nostre ambizioni. Come dicevo prima dobbiamo dare continuità per cercare di arrivare a fine campionato, di levarsi qualche sassolino dalle scarpe. A Rende, se non sbaglio, tu hai esordito da titolare dopo l'infortunio, no? Quella sconfitta è costata la panchina a Erra, poi è arrivato Dionigi. Che tipo di impressione ti aveva fatto il Rende, che ancora in quella fase stava viaggiando come quello che poi si è confermato una sorpresa nel campionato? E che tipo di difficoltà, che tipo di gara ti aspetti domenica? Sicuramente loro stanno facendo un gran campionato. E c'è da dire che è una squadra che lotta su ogni pallone, diciamo come è la realtà della Serie C. E loro stanno continuando a fare questo dall'inizio del campionato e stanno avendo risultati, insomma.